amici di caricatori benvenuti sul bunker protagonista di oggi sarà il calibro 12 sarà la bior o meglio le bior siccome qua ne abbiamo due e la polvere gm3 polvere monobasica granulare con granuli irregolari adatta ai caricamenti medio leggeri oggi la vedremo in due set in orlo tondo con ben 34 grammi di piombo il primo assetto è stato realizzato sotto specifica richiesta di un membro della community mentre il secondo è una conseguenza dei risultati ottenuti dalla prova in canna manometrica del primo assetto assetti che andremo a scoprire insieme dopo la sigla direi di iniziare partendo proprio dall'assetto che è stato richiesto allora l'assetto in questione è stato richiesto con delle specifiche una di queste era il bossolo da 70 con innesco 686 quindi bossolo della nobel sport da 70 mm con innesco media potenza 686 come polvere come già anticipato è stato chiesto di utilizzare una gm3 in dose di un grammo e 60 mentre per quanto riguarda il borraggio c'è stato chiesto di utilizzare una bior della la balistica la bior h25 bior adatta al caricamento in bossolo da 70 che va dai 30 e 32 grammi poi dipende logicamente dalla volumetria della polvere utilizzata in questo caso una polvere come la gm3 e con l'uso della chiusura in orlo tondo è stato possibile usarla per caricare i 34 grammi di piombo quindi 34 grammi di piombo pallino numero 10 cartuccia che è chiusa in orlo tondo su dischetto trasparente di scatto in plastica ad una quota di 64 mm e 3 cartuccia realizzata e bancata da alex che ha dato questi risultati risultati della prova in canna manometrica su una media di quattro colpi risultati che andremo a scoprire insieme che voi come al solito vedrete in video partendo proprio dal tempo di canna tempo di canna medio di 3160 microsecondi una velocità a due metri e mezzo dal vivo di volata su canna cilindrica pari a 372 metri al secondo con una pressione media di 695 bar dalla prova in canna manometrica possiamo dire che abbiamo una cartuccia leggera una cartuccia estiva una cartuccia con un tempo di canna lunghetto ma che rientra comunque nei valori accettabili tempo di canna di 3160 microsecondi tempo di canna lungo che si è dato diciamo dall'insieme dell'assetto quindi all'utilizzo di una borra particolarmente morbida come la borra della balistica dall'utilizzo di un orlo tondo ma che è diciamo maggiormente imputabile all'uso di un innesco a medio potenza possiamo notarlo anche dal ritardo di accensione che è dei tempi lunghetti quindi in questo caso si ha una salita diciamo della curva pressoria non non repentina ma una salita verso il picco pressore abbastanza dolce che ci dà una cartuccia una cartuccia praticamente estiva una cartuccia che con il freddo diciamo al primo freddo andrebbe sicuramente rivista sicuramente modificata una cartuccia che però ricordo è stata provata in canna manometrica ad una temperatura di 20 gradi quindi una cartuccia che sicuramente con temperature più calde magari risulta essere più idonea confronto ad altre cartuccia quindi che può essere tranquillamente utilizzata che però ripeto andrebbe rivista andrebbe rivista i primi freddi poiché potrebbe in teoria ammorbidirsi ancora di più e tracollare poi con temperature particolarmente fredde ok in base ai risultati di questa bancatura alex cosa ha fatto ha diciamo rivisto la stessa per adattarla ad una situazione invernale ad una situazione di freddo oltre a dirvi che lo stesso assetto può essere rivisto adattandolo a temperature più fredde andando a sostituire semplicemente l'innesco quindi passando ad un innesco di alta potenza tipo 616 vi faccio vedere la versione che alex ha voluto diciamo rendere ok rendere più più invernale ok e cosa è stato fatto è stato utilizzato un bossolo di tipo 2 con innesco 616 quindi bossolo da 70 con innesco 616 con un aumento di circa 500 grammi sulla gm3 quindi passando da un grammo e 60 della bancatura che abbiamo visto prima un grammo e 65 apro una piccola parentesi in questo caso nel caso di questa bancatura sarebbe diciamo quasi inutile andare a mettere 500 grammi di polvere in più poiché il problema non è la polvere il problema è l'accensione la prima cosa da fare quindi andrebbe rivista proprio la capacità innescante dopodiché si può diciamo andare a intervenire anche sulla quantità di polvere magari per aumentare le prestazioni della cartuccia quindi dicevo bossolo a 70 con innesco 616 con un grammo e 65 di polvere gm3 stessa identica polvere stessa identica lotto utilizzato per l'assetto precedente si è rivisto anche il contenitore passando dalla bior della balistica che è particolarmente morbida ad una bior leggermente più rigida la bior della gualandi la h25 bior più alta adatta i 30 grammi più o meno nel bossolo da 70 in stellare in questo caso con sempre l'utilizzo di una chiusura in orlotondo quindi andando a sfruttare maggiore volume siamo riusciti o meglio alex è riuscito a mettere a utilizzare lo stesso i 34 grammi quindi come in questo caso 34 grammi di piombo 10 che sono chiusi sempre sul dischetto trasparente dischetto in plastica della gualandi ad una quota di 64 mm e 3 e adesso andiamo a scoprire i risultati della prova in canna manometrica di questo diciamo assetto rivisto in modalità invernale vedrete come al solito la bancatura in video allora partiamo proprio dal tempo di canna che pare 2625 microsecondi quindi tempo di canna che si è notevolmente accorciato confronto alla cartuccia che abbiamo visto primo segno di una capacità innescante sicuramente diversa poiché siamo passati da un innesco 686 a media potenza ad un innesco 616 velocità di 387 metri al secondo velocità misurata due metri e mezzo dal vivo di volata su canna cilindrica parliamo quindi di una velocità v1 di circa 390 metri al secondo sempre sul cilindrica che passerebbe 400 metri al secondo se utilizzata con canna full sempre un metro dal vivo di volata condita da una pressione di 773 bar pressione media sui quattro colpi pressione che inquadra questa cartuccia tra le cartucce hp guardando la bancatura notiamo un terzo colpo con dei valori più bassi confronto agli altri quattro da definire quasi diciamo colpo anomalo un colpo sicuramente diverso diverso dagli altri con un tempo di canna più lungo con una pressione più bassa di circa 80 bar dalla media è un ritardo di accensione maggiore questo probabilmente dovuto a una diversa capacità innescante cartuccia che personalmente andrei ad inquadrare con magari un numero maggiore di colpi sparati intorno a una pressione diciamo superiore agli 800 bar avete visto come siamo passati una cartuccia prevalentemente estiva come la prima che abbiamo visto ad una cartuccia invernale prima cosa andando a intervenire sulla capacità innescante passando da un 686 a un 616 quindi rivedendo l'innesco passando l'innesco ad alta potenza si è potuta anche aumentare di 500 grammi la polvere così da avere una cartuccia con delle prestazioni maggiori grazie anche all'utilizzo di una biore più rigida si è passate ad una cartuccia con maggiori prestazioni e con una pressione più elevata quindi passando in modo netto da un assetto estivo ad un assetto invernale entrambi gli assetti con 34 grammi entrambi in piombo 10 entrambi che possiamo utilizzare per le nostre avventure di caccia però in periodi e in momenti diversi caldo e freddo questo è quanto il canale grazie logicamente alla fornitura delle bancature da parte di alex è riuscito a servirmi su questa palmella in calibro 410 e niente vi ringrazio per la visione del video ricordandovi quanto quanto sia importante una vostra partecipazione nei commenti e nei mi piace al prossimo sempre sul bunker wild